Cari amiche e cari amici, in questo strano video vi voglio parlare di varie cose. Vi consiglio di vederlo fino alla fine e vi ricordo che c'è un canale che si chiama Decimo d'oro interviste, lascio il link in descrizione nel primo posto in alto, che è una marea di notizie, di informazioni, di video stupendi fatti a personaggi veramente di qualità, che non vedrete mai nella televisione ufficiale, perché dicono il vero, non raccontano le fesserie che potete vedere nei giornali sui giornali. Detto questo, vi chiedo, sapete che cos'è un cappone? Un cappone, strana domanda, il cappone è un pollo maschio, solamente che, poverino, è stato castrato, perché così raggiunge un maggior peso e poi la carne diventa più morbida. E tra l'altro si è persa un po' la tradizione natalizia adesso, ma sapete che quando io ero ragazzo questa tradizione del cucinare il cappone a Natale era molto molto radicata, un po' dovunque, perché vi sto parlando di polli castrati, che stranezza, perché vi voglio raccontare una vera e propria parabola che c'è nel terzo capitolo dei Promessi Sposi, una scenetta gustosissima, potremmo proprio chiamarla la parabola dei capponi, ma una vera e propria parabola, però siccome vi ho detto che questo è un video strano, aspettate un attimo e poi non pensate che sono impazzito e vi sto parlando di tutto il tratto, perché nel trascorrere del video tutti questi argomenti prenderanno una loro organicità e capirete. Inizi degli anni settanta. Io ero studente di violino, poi farò il violinista per alcuni anni nella mia vita, finché una fortissima artrite e dei problemi muscolari non mi impedirono di continuare quel mestiere. Il mio maestro suonava in un quartetto d'archi, non vi posso dire il nome ovviamente, ma era un quartetto che andava per la maggiore al tempo. Che cos'è un quartetto d'archi? È formato, siamo nella sfera della musica classica, è formato da violino, violoncello, viola e contrabbasso. Tutti gli archi che ci sono. Ci sono delle musiche straordinarie nel quartetto d'archi. Che succede? Che il mio maestro di violino suonava con la moglie in questo quartetto. La moglie del mio maestro di violino si innamora di un altro, che faceva sempre parte di questo gruppo, di questo quartetto d'archi. E quindi immaginate che passavano le giornate a odiarsi e a litigare. Però la sera facevano i loro concerti, vestiti di tutto punto. Andavano per la maggiore, erano invitati nei principali conservatori di tutta Italia. E quindi avevano un appuntamento dietro l'altro. E siccome il mio maestro si fidava molto di me e mi confidava anche alle sue sofferenze con la moglie, io conoscevo molto bene anche la moglie, perché quando andavo a prendere le lezioni di violino andavo a casa sua e conoscevo perfettamente anche la moglie. E mi fui colpito proprio da questo fatto, dalla professionalità. Incredibile. Voi pensate in questa situazione, dove il giorno casini su casini, per settimane, mesi, eppure la sera andare lì, lasciarsi tutto alle spalle, grandissimi professionisti, e suonare impeccabilmente. Poi tenete presente che gli strumenti ad arco non perdonano, lì le note vanno costruite, vanno costruite, quindi la sfera emotiva si riflette molto facilmente sulla pulizia del suono. Eppure questi erano impeccabili. Per che cosa? Per rispettare i concerti dal punto di vista professionale. Quindi hanno saputo superare le loro miserie umane per qualcosa che per loro era più importante, che era la professionalità. il quartetto d'archi. Qui ritorniamo ai Promessi Sposi. Voi direte, vabbè, ma che c'entrano i polli castrati col tuo maestro di violino? E abbiate un attimo di pazienza, fatemi la cortesia. Allora, terzo capitolo dei Promessi Sposi. Renzo era andato a Monte il matrimonio con Lucia, e sul Consiglio di Agnese si regatta da un avvocato, poi è geniale Manzoni perché chiama l'avvocato, il dottor Azzecca Garbugli. Insomma, Renzo vuole avere così. A Roma si parla di dritte, qualche dritta legale. E va da Azzecca Garbugli. Non si vuole presentare a mani vuote, allora porta in dono quattro capponi e li tiene per le gambe così. Poi, siccome era agitato per la situazione, no? Allora sarà capitato anche a tutti voi, no? Che quando magari vi ritrovate a volte in periodi di forte compulsione, di forte agitazione, magari a pensare ad altavoce, magari anche a parlare ad altavoce e a fare dei gesti, no? Quando ci sono delle emozioni molto forti, no? E così Renzo, con questi po' ricastrati in mano, faceva dei gesti durante il cammino e faceva ballonzolare le teste degli animali. E questi qui che facevano? Ne approfittavano per beccarsi a vicenda. Quelli stavano andando a finire tutti nel pentolone. Eppure in quel tragitto non gli pareva vero di stare lì a beccarsi a vicenda. Adesso leggo la maestria del Manzoni a questo riguardo, che scrive. Lascio poi pensare al lettore come dovessero stare in viaggio quelle povere bestie, così legate e tenute per le zampe, a capo all'ingiù, nella mano di un uomo il quale, agitato da tante passioni, accompagnava col gesto i pensieri che gli passavano a tumulto per la mente. Ora stendeva il braccio per la collera, ora l'alzava per la disperazione, ora gli batteva in aria come per minaccia. E in tutti i modi dava loro molte scosse e faceva balzare quelle quattro teste spensolate, le quali intanto si ingegnavano a beccarsi l'una contro l'altra, come accade troppo sovente tra i compagni di sventura. Geniale, geniale Manzoni. Ecco, e questa dei capponi di Renzo è evidentemente una metafora. Quando ci si trova in difficoltà, lì quelli andavano stati già condannati a morte, invece di essere solidali tra loro, invece di dimenticare le miserie umane, come hanno fatto, stavo per dire il nome, il quartetto d'archi di cui vi ho parlato, spesso ci si becca come i capponi, ci si accusa a vicenda. Magari se in quattro gatti si vuole cambiare il mondo e quei quattro gatti fanno come i capponi di Renzo. E ogni volta il proprio ego pompato mette in evidenza i propri pregi in contrapposizione con i difetti altrui. No, io con quello non c'entra niente, con quel traditore, con quel... Questo significa essere capponi dentro. Essere capponi dentro. Ora vi dico perché vi ho raccontato questa storia del quartetto d'archi e dei capponi. In un video precedente vi dicevo che l'unica cosa che accomuna i cattolici in questo momento è la divisione. Non hanno un Papa comune. C'è chi dice che un Papa è uno, c'è chi dice che un Papa è un altro, c'è chi dice che non sono tutte e due. Non hanno una dottrina comune. C'è chi si rifà prima del concilio Vaticano II, chi ha dopo, chi ha il catechismo di San Pio X, chi ha il catechismo nuovo. Non hanno nulla di nulla. Sono sparpagliati in 6.000 gruppuscoli che si guardano in cagnesco da loro e sono i capponi di Renzo. Ci sono persone che magari salgono in cattedra, quante professoresse mi immagino ancora oggi salgono in cattedra e dall'alto della loro cattedra parlano ai miserabili studenti dalla loro alta conoscenza e gli narrano e gli leggono l'episodio dei capponi di Renzo con tanto di spiegazione. Poi tornano a casa e litigano col marito, vanno dalla migliore amica, gli parlano male dell'altra amica e non sanno andare oltre le miserie umane. Allora, cari cristiani cattolici, io mi rivolgo soprattutto ai cattolici, non fate come i capponi di Renzo. Bisogna essere uniti in un ideale superiore e anche se nascono dei contrasti, non siate capponi di Renzo. Bisognerebbe unirsi sui punti comuni. Qui c'è una situazione drammatica, catastrofica. L'arcivescovo Viganò può essere un punto di forza per tutti, credenti, non credenti. C'è un episodio, forse vi racconterò in un altro video, conseguente al discorso di Viganò, straordinario, veramente quasi un miracolo, che è accaduto a un mio amico. Bisogna smettere di beccarsi, bisogna smettersi di dividere e soprattutto non essere capponi dentro. Se si è capponi dentro, si sta lì a beccarsi. Dice, ragione io, c'è tutto lui, è la divisione, è questo, il papa è questo, il papa è quell'altro. Se non si è capponi dentro, si fa come il quartetto d'archi. In quel momento sappiamo che abbiamo una missione, che abbiamo un dovere superiore rispetto alle miserie umane, perché queste sono miserie umane legate a chi ha un ego spropositato ed ipertrofico e bisogna sapere abbandonare, è inutile stare lì a dire io sono il peggiore dei peccatori, questa è una cosa ricorrente tra i cattolici, io sono il peggiore dei peccatori. Poi se tu poi gli fai notare un attimo dopo che realmente è un peggiore dei peccatori, si incazzano. Ma come l'hai appena la te... sì, ma se lo dico io è perché voglio dire che essendo il... c'è tutto il retropensiero, no? Che essendo il peggiore dei peccatori, io sono il più figo di tutti perché riconosco di essere il peggiore dei peccatori. Ma se me lo dici tu, no, tu metti in atto il mio ego ipertrofico e riscatta il cappone di Renzo che è in me. E allora, come il gruppo dell'arco, questa formazione del quartetto d'arco, dovrebbero fare tutti cristiani. E i cattolici in particolare, i cattolici in particolare, che in questo momento danno giudizio su tutti e sono gli ultimi che dovrebbero giudicare e dovrebbero con un attimo di umiltà chinare la testa e cercare di fare servizio a Dio, no a loro stessi, al loro ego. E quindi che vuol dire fare servizio a Dio in questo momento? Quello che sta facendo Viganò, che si rivolge come pastore ai cristiani, ma va oltre, va oltre. Bisogna andare oltre le miserie umane, cattolici, non siate capponi dentro. E soprattutto, iscrivetevi al decimo d'ora interviste, link in descrizione, link in primo piano. Pubblicherò prossimamente anche una playlist in mente che sto prendendo contatti con la persona che intervisserò, ma sarà dire una bomba e poco. Ma ve lo comunicherò. Per il momento iscrivetevi, cliccate sulla campanella per avere le vostre notifiche e non siate capponi dentro. Quando ci si crede di fare un servizio agli altri e di operare per qualcosa di superiore, non si sta lì a litigare le miserie umane. Non necessariamente bisogna andare d'accordo. Non necessariamente. Non è che bisogna andare d'amore e d'accordo. No, uno può continuare tranquillamente perfino ad odiarsi. Perfino ad odiarsi. Dico io. Ma nel momento in cui si fa servizio agli altri, quell'odio si mette da parte, ci si rimboccano le maniche, come dicevano i Blues Brothers, siamo in missione da parte di Dio e quindi queste miserie umane le lasciamo ai miserabili. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo. Un caro abbraccio a tutti.